questa raccolta di voci oltre a quelle citate nel libro è una selezione di tante altre meravigliose di cui è difficile fare una scelta ci siamo affidati al nostro spirito che speriamo sia entrato in sintonia con il vostro vi ringraziamo per la lettura del libro e per l'ascolto e vi salutiamo in cristo mirella e franco lode e gloria a dio amen all'ultimo momento riunione del 21 gennaio non 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 ma si chiudica molto, lo sapete, a queste cose Buon amore straordinario, che tu abbi tanta figlia, nel piccolo gioco, ti saluto Franco. Grazie. Di me, che tu abbi tanta figlia, saluto Franco. Di me, che tu abbi tanta figlia, ti saluto Franco. Grazie. Ma te lo dico. E via. Dacci un saluto, eh. O facci un corno, dai. Un corno, dai. Certamente. Dacci un saluto, dai 4 minuti, e spingi dal figlio un po' di mano. O sto capito, ma la risposta che io credo possa essere questa, buon amore, un piccolo, il re di diva. Buon amore, buon secolo, non mi leggo. Non mi leggo, non mi leggo. Una risposta che io credo possa essere umana, ma non si può essere. Anche noi, Mirella e Franco, chiudiamo rinnovando la nostra lode a Dio. Grazie. 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 Grazie.